Gianluca Fantini, voi avete ottenuto con Pirelli tre stelle del programma di accreditamento ambientale proprio per il vostro impegno nella sostenibilità. Lì un pochino ci ha già un po' raccontato tutto, però ci sono altre iniziative che state portando avanti da questo punto di vista? No, ce ne sono innumereboli. Pirelli è tra le principali aziende del mondo manufatturino che ha una serie di rating dal Dow Jones Sustainability Index al CDP alle Covadis, abbiamo una scorecard di parametri che tra l'altro sono anche degli incentivi dei manager, quindi per poter raggiungere determinati obiettivi bisogna raggiungere anche degli obiettivi di sostenibilità. Un po' come la nostra carbon tax per capirci. Sì, questo però se li ottieni ti danno i soldi, tu se li ottieni di pagare. No, no, sono negli MBO, ma penso che sia così, nella maggior parte delle aziende strutturate come le nostre negli MBO aziendali ci sono parametri di sostenibilità, ma anche perché poi Pirelli è veramente un'azienda innebitata quindi chiede prestito per poter fare business e il 70% di quello che abbiamo come finanziamento è legato a parametri ISG, quindi proprio la sostenibilità è centrale, trasversale e tutto. Però quello che mi piace condividere con voi è che è diventata proprio un'attività interna, aziendale che fa proprio cultura e che attira tantissimo i giovani, perché dopo alla fine va fatto con i giovani talenti che vanno attirati e trattenuti e la sostenibilità è un parametro che alza tantissimo la loro sostenibilità, la loro sensibilità e quindi alla fine è come se si fosse chiuso il cerchio, cioè prima facevi la sostenibilità perché ci credevi, adesso la devi fare perché ti serve per finanziarti, ma alla fine la fai anche perché i giovani vogliono farla, quindi tutto. E poi diciamo c'è la twin transition, c'è la transizione energetica ma c'è anche quella digitale, che poi anche questa ha delle accelerazioni pazzesche. Prima parlavamo del problema del canale di Suez, ricordate quando si è attraversata la nave, ci abbiamo messo 15 giorni, da lì passiamo alle materie prime, 15 giorni per capire gli impatti. Quando c'è stato il problema degli uti, grazie a un programma di digitalizzazione che abbiamo fatto, in un giorno abbiamo dato i dati al board per dire quali erano gli impatti, abbiamo deciso cosa dirottare, che materie prime trasportare via aereo, ovviamente spendere i soldi per non fermare le fabbriche. Quindi la digitalizzazione e la sostenibilità stanno andando diciamo di pari passo. E alla fine sostenibilità, ripeto, è anche talent management dei giovani talenti. Grazie, quindi giovani e innovazione, quindi non ci può essere sostenibilità senza innovazione, quindi senza una specializzazione sempre più attenta alle materie che poi abbiamo sentito prima parlare di questi robottini che lavorano anche la notte, che non consumano nulla. Invece a Lorenzo Plebani, ecco io ho scritto questa domanda, lo champagne sta vivendo la sua rivoluzione green e l'abbiamo detto, come si coniuga l'aspetto anche glamour dello champagne con la sostenibilità, e con quello che sta chiedendo il mondo in questo momento, anche nelle difficoltà, un po', lei ci ha già raccontato un po' tutto, però magari se ci spiega anche quei quattro pilastri, un po' meglio quei quattro pilastri di cui ci parlava prima. Sì, sì, è un mondo molto glamour quello dello champagne perché alla fine comunque è un prodotto di lusso, è un prodotto di celebrazione, è un prodotto che accompagna i momenti di festa, però è anche un prodotto sul quale il consumatore applica una scelta, può scegliere di consumare lo champagne, può scegliere di consumare qualcos'altro. Il nostro obiettivo è far capire al consumatore che effettivamente quando consuma champagne dà anche un contributo al rispetto dell'ambiente, che si tratti di campi di segale in Polonia sui quali non applichiamo pesticidi perché è segale biologica, che poi utilizziamo per produrre la nostra vodka, per il vedere, o che si tratti di iniziative che prendiamo per la difesa dell'ambiente in altre zone del mondo. Qui a Milano abbiamo aderito al progetto Forest Ami, in altre zone del mondo abbiamo aderito a Reforest Action. La specificità è effettivamente che in un mondo glamour ci troviamo a parlare di tematiche che sono molto terra-terra, che non sono glamour alla fine, perché a nessuno piace sentire parlare di disastri climatici o di come sta cambiando il mondo e di quanto è complicato lottare contro l'emissione di CO2. Però è quanto permette a noi di fare la differenza e dimostrare che effettivamente non siamo solamente produttori senza anima di un bene di lusso. I quattro pilastri che applichiamo, li applichiamo perché ci crediamo, perché sono vitali per noi, perché ci credono anche i nostri talenti e perché ci permettono effettivamente di avere un minimo di visione del futuro. Dove stiamo andando, ci arriveremo, saremo ancora qui fra un secolo. Quindi proteggiamo il suolo perché è il suolo che dà principalmente gli aromi, la parte particolare dello champagne che poi viene prodotto. Ci occupiamo di iniziative green in tutto quello che riguarda misurazione, riduzione logistica green grazie ai nostri partner, riduzione degli imballaggi perché il problema esiste. È vero, non è solamente un problema legato adesso con Amazon. C'è un problema di imballaggio, di cartone, di riciclaggio, di eccesso di pallet. In questo mondo glamour produciamo anche diversi elementi di merchandising che stiamo man mano riducendo. Perché alla fine la parte che deve restare è il piacere, l'esperienza della coppa di champagne che ti permette effettivamente di degustare un prodotto di qualità. Certo, io mi domando se con tutta questa logistica, innovazione, eccetera, eccetera, siano arrivate qua delle bottiglie per dopo, per un assaggio, mi domandavo. Non so se funziona anche da questo punto di vista. Non funziona, se vuoi fare di comis, ha i valori di tipo... Ma soprattutto come le avete fatte arrivare? Questo abbiamo chiamato il competitor. Volevo dire una cosa, prima lei ha parlato di campi di basket in Africa e uno dice ma che ci fanno i campi di... Vi racconto brevemente questa cosa, ho intervistato due anni fa questo ragazzo che arrivava dal Mali, che si chiama Ali Gassman, un ragazzo che aveva il sogno di arrivare in Italia, gli ha fatto la sua camminata per il deserto, ha visto morire amici, è stato rinchiuso in un carcere, se così si può chiamare, in Libia, con tutte le torture del caso di cui faticava anche parlare, e mi disse questa cosa, mi disse l'unico momento bello, e me lo disse con le lacrime agli occhi, che ho vissuto in quel viaggio è stato quando ho incontrato un campo da basket e ho giocato in Libia con dei ragazzi come me sul campo da basket, e quella cosa mi ha dato la forza poi per fare tutto il resto. Sono dei veri punti di aggregazione, non lo sapevo neanch'io, però effettivamente nell'Africa subsahariana il basket è molto popolare e i campi da basket sono luoghi di ritrovo che animano un po' tutto il quartiere. Grazie, complimenti. Grazie, abbiamo anche uno scoop a proposito del basket, perché la dottoressa di Libia qui presente è un ex professionista giocatrice di basket in serie A, quindi c'è una serie a... Sono affezionata, quindi sono molto contenta della vostra iniziativa, grazie Presidente per l'assist. Come sarà la logistica del futuro? Come ce l'immaginiamo? Allora, come anticipata anche un po' da Davide, il futuro secondo noi è la collaborazione. Collaborazione sia fra fornitore di servizi logistici e committenti, perché come emerso un po' anche dagli spunti è fondamentale che ci sia condivisione di informazioni, anche proprio per aumentare quella che è la visibilità sull'intera feriera e poi ottenere beneficio da questa visibilità, per cui avere una previsione più accurata della domanda in un contesto in cui la domanda sta diventando assolutamente incerta e caratterizzata da fluttuazioni difficilmente prevedibili e tutto questo ha poi delle ripercussioni in termini di efficienza operativa, sia all'interno del magazzino sia proprio all'interno di quelle che sono la gestione dei flussi del trasporto e della distribuzione. In quest'ottica, a nostro avviso, è anche molto importante la collaborazione per quanto riguarda finanziamenti condivisi soprattutto riguardo a soluzioni ad alto livello di automazione e di innovazione e in ottica di riduzione dell'impatto ambientale in modo anche da cercare di condividere il rischio fra fornitore di servizi logistici e committenti. Allo stesso tempo non basta, nel senso che è necessaria anche una collaborazione in termini di sistema fra fornitori di servizi logistici e fornitori di servizi logistici in generale e fra tutti gli attori della filiera soprattutto per far fronte a quelle sfide dove la singola azienda non può intervenire in maniera radicale. Pensiamo al passaggio all'intermodale e al necessario rafforzamento di tutta quella che è l'infrastruttura ferroviaria in Italia ma non solo in Italia come in Europa o a tutto il tema dell'attrattività. Il problema dell'attrattività è comune a tutti i fornitori di servizi logistici e c'è proprio bisogno che ci sia una collaborazione anche con le istituzioni in modo da far cadere un po' quello che è lo stigma, la percezione che le persone esterne al mondo della logistica hanno di quello che è il settore e delle competenze richieste dal settore per cui far cadere l'idea che sia solo un posto per uomini con determinate caratteristiche. Allo stesso tempo accompagnata la collaborazione è importantissima, come è già stata nominata, l'innovazione. Innovazione che sicuramente può essere aiutata dalla collaborazione ma in cui le start-up, il buon Carlo ne sa qualcosa, giocano un ruolo fondamentale. L'anno scorso nella ricerca abbiamo fatto una mappatura, un censimento delle start-up attive a livello internazionale e abbiamo notato come si stia lavorando moltissimo su tutte le varie declinazioni della sostenibilità, sia in termini ambientale per cui per lo sviluppo di nuove tecnologie in termini di fuel ma anche di sistemi che possono andare un po' a sorpassare le barriere, quindi per esempio dell'elettrico per cui sistemi di battery swapping per cercare di aumentare l'autonomia dei mezzi, ma anche tutto un lavoro fortissimo sulla sostenibilità sociale per i lavoratori, quindi tecnologia, supporto degli operatori di magazzino come possono essere esoscheletri o smartwatchings che aiutino l'operatore nell'attività di picking. Presidente, direi che nei nostri osservatori la dottoressa è invitata per il drafting legislativo famoso di cui parlavamo prima, ma così abbiamo tutti l'idea chiare, d'accordo? Siamo chi ci farà lezioni. Esatto, grazie, grazie mille. Per chiudere, che cosa prevedete? Che idee avete ancora? C'è qualcos'altro che bolle in pentola? Che cosa state pensando? Chiaramente noi come start-up siamo obbligati, proprio come nostra essenza, andare avanti nelle ricerche e sviluppo, perché è quello che ci mantiene l'edge competitivo e noi seguiamo due direzioni, quella che è la nostra offerta, sostenibilità e soprattutto poi automazione. Vi faccio un esempio di quello che può essere la nostra offerta come ricerca e sviluppo nel minor tempo possibile con i dovuti tempi e noi vogliamo automatizzare tutta la logistica in outbound, cioè vuol dire immaginiamo un magazzino che può avere in ingresso un autostore che gestisce tutta l'inbound, non stoccaggio e quant'altro. Ad oggi poi diciamo che l'automazione si ferma nel momento in cui ci deve essere qualcuno che riempie l'imballaggio, ancora fatto a mano. Noi vogliamo agire lì in stramini di automazione, quindi usare sì il nostro sistema di box on demand che è sostenibilissimo, che riesce a migliorare la capacità dei trasporti di fatto, ma anche a mettere dei cobot di fatto, oppure adesso capiamo un attimo che direzione prendere, se c'è qualcosa di meglio ma andiamo in quella direzione più facilmente, che sono in grado di sostituire l'operatore che di fatto è un lavoro aglinante, è un lavoro che peraltro essendoci anche dello shortage è difficile dal punto di vista di un'impresa reperire e quindi avendo creato poi questo sistema che è sostenibile e automatico, secondo noi è l'offerta giusta. Abbiamo un altro filone di ricerca e sviluppo, più software, quindi immaginiamoci che ci sia la macchina di box on demand che fa le scatole, il cobot che le riempie, quindi tutto in automatico, che può lavorare 24-7, quindi c'è un certo livello di automazione, è un software che è in grado di gestire tutto l'outbound, cioè che è in grado di gestire anche la dimensione delle scatole che vengono prodotte in base a dove devono andare queste scatole, cioè si può anche andare a ottimizzare il pallet che non vuol dire ottimizzare ogni singola scatola, si può voler dire andare a ottimizzare il cargo dell'aereo, della nave, del camion, in base alle dimensioni degli imballaggi, tutto in maniera controllata, automatica, che poi sposandolo diciamo con quello che può essere un autostore, cioè l'output totale è una fulfillment warehouse completamente automatica, sostenibile e controllata. La nostra vision è questa, è molto ambiziosa. Ci piace? Ecco la direzione, tutto detto, esatto. Grazie, grazie mille.